ed è stato proprio un mio acquisto voluto a tutti i costi da me Gasperini non lo voleva allora nell'operazione Tiago Motta Milito io ho preso Meggiorini dentro Bonucci per un milione che poi abbiamo rivenduto a 16 la Juve Bonucci per un milione Meggiorini e ho preso a 9 milioni perché abbiamo preso anche i soldi dall'Inter ho preso 45 milioni e ho preso Acqua Fresca che lo volevo a tutti i costi io perché mi sembrava che somigliava un po' come modo di giocare aveva fatto bene a Cagliari un po' in zaghi ma era dell'Inter e Gasperini mi ha detto guarda a me non mi non mi convince questo calciatore la Piero fai come cavolo vuoi ma non mi convince e infatti mi ha massacrato poi tutto l'anno e ha ragione lì è stata una delusione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti